Un saluto a tutti dalla voce di Bruno Pizzul. A richiesta andiamo a leggere il girone di promozione A della Sardegna dopo la ventiduesima giornata. Villa Simus, Orolese, 1-2. AC Cortoghiana, Seminese, 0-1. Atletico Cagliari, La Palma, Montierpino, 2-1. Gono Svanadiga, Cus Cagliari, 1-0. Serargius, Guspini Calcio, 0-4. Verde Isola, Carforte, Andromeda, 3-0. Villa Massaggia, Castidas, 1973, 2-1. La classifica vede al primo posto Villa Simus, al 51 punti. Al secondo, Castidas, 1973, con 42 punti. Guspini Calcio, con 41 punti al terzo posto. A seguire, Atletico Cagliari, con 37. Verde Isola, Calforte, con 36. Gono Svanadiga, 34 punti. Cus Cagliari, 32 punti. Villa Massaggia, con 29 punti. Serargius, 28 punti. Orolese, con 27 punti. AC Cortoghiana, con 20 punti insieme alla Seminese. Andromeda, 19 punti e chiude. La Palma, Montilpino, con 17. Un saluto a tutti.